Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, partendo dalla FIPILI dove si segnalano possibili disagi a causa di un incidente avvenuto a San Miniato in uscita provenendo da Firenze. Rimanendo in FIPILI si ricorda che per lavori di ripristino dell'asfalto sul viadotto Margherita fino al 2 novembre è in vigore uno scambio di carreggiata in direzione mare nel ramo di Livorno. Passando alla statale 1 Aurelia sempre a causa di lavori scambio di carreggiata tra Scarlino e Venturina in entrambe le direzioni fino a fine novembre. E' uno sguardo ai cantieri della città di Firenze per lavori di risanamento della pavimentazione su Ponte Vespucci. Fino al 15 novembre sono in vigore divieti di sosta e transito dall'Ungarno Vespucci all'Ungarno Soderini. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!